Dottore 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 Strat Siamo arrivati con il numero 5 Un pilota che viene a Parani Ben 5 volte vincitori dei pelli Città di Casarano Franco Lagana Qui Lagana Prego, prego, prego Rellista di fama nazionale Con il suo navigatore Allora, vorrei sentire un attimo Da Lagana se è soddisfatto di questa prova No, con un'altra macchina o niente Ecco, è arrivato il momento di cambiare macchina Dice Franco Franco Lagana Caro Fabio Aga Ovviamente non parlava di estetica Ma si evolve in continuazione Sì, con l'avvento qualche anno fa Di questo nuovo gruppo R Che avrebbe dovuto sostituire il gruppo N Le autovetture più strettamente di produzione Non quelle preparate Le famose gruppo A Quelle proprio preparate Teniamo un po' più in basso la musica Perché se no non so